5 San Cataldesi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di avere rapinato un'agenzia di viaggi di San Cataldo il 19 agosto scorso. Per un indagato è stato disposto il carcere, mentre altri 4 sono finiti agli arresti domiciliari. Alla base di tutto ci sarebbe una presunta condotta inadempiente da parte dell'agenzia. I 5 arrestati si erano infatti presentati all'interno dell'esercizio commerciale per chiedere la restituzione della somma pagata per una crociera, ma quando si sono sentiti rispondere da una delle titolari che non c'erano contanti in cassa la situazione è degenerata. Secondo il racconto dei titolari e di una dipendente i 5 non avevano risparmiato minacce al loro indirizzo e avevano portato via un ventilatore, un frigorifero, una televisione, un computer fisso con il relativo case, una stampante, tre orologi Ikea e persino una decina di modellini di navi da crociera. Il tutto per un valore di circa 3.000 euro. Merce che i rapinatori avevano detto di volere restituire solo se fosse stato loro rimborsato il denaro della crociera. Titolari e dipendenti avevano anche provato a chiamare il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ma vennero minacciate pesantemente. Nei prossimi giorni 5 indagati verranno interrogati dal giudice a difendere gli avvocati Gianluca Amico e Sergio Messina. Incidente stradale sulla 640 in direzione di Caltanissetta. 15 minuti dopo la mezzanotte è stato un automobilista a chiedere l'intervento alle forze dell'ordine e soccorsi per un incidente che ha coinvolto quattro auto sulla strada statale 640 in prossimità della galleria Roverello in direzione Caltanissetta. Sono state tre le pattuglie dei carabinieri intervenute e anche un'ambulanza del 118, vigili del fuoco, personale ANAS e soccorso stradale. Ad essere coinvolti nell'incidente sono stati una 43 anni di San Cataldo alla guida di una Golf, una Lancia Y guidata da una ragazza di Caltanissetta di 19 anni, una BMW condotta da un ventenne nisseno e un Alfa Romeo Giulietta guidata da un 27enne di Enna che è stato poi trasportato in ospedale con codice verde e successivamente dimesso. Scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Caltanissetta per porto di armi ed oggetti atti ad offendere nei confronti di un uomo. Tutto ha avuto inizio nella notte, erano due gli uomini sospetti a bordo di un'auto che si aggiravano tra i condomini dei quartieri periferici della città. A fermarli durante i servizi di controllo del territorio sono stati i poliziotti della sezione volanti. I due uomini, già gravati da pregiudizi di polizia, sono stati identificati e sottoposti a perquisizione personale del mezzo e così gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato al conducente un coltello a serramanico nascosto sotto il sedile dell'auto ed è scattata la denuncia. Tornano i problemi legati alla viabilità nel vallone. Con le prime piogge scroscianti delle scorse ore, tanti sono i disagi provocati ai pendolari. Due le strade maggiormente martoriate dalla prima ondata di maltempo di venerdì scorso. La strada che collega Vallelunga e Villalba con Mossomele è la SP38 che collega quest'ultima con Caltanissetta. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato parecchio fango sulle carreggiate ed addirittura c'è stata un'iniziativa lodevole di un contadino della zona che ha spalato fango di sua spontanea volontà per permettere la circolazione delle macchine. La situazione al momento sembra essere tornata alla normalità dato il graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma si invita comunque a tenere alta la guardia poiché qualche detrito potrebbe essere rimasto nella carreggiata. Negli ultimi sette giorni sono stati riscontrati 331 casi di positività al coronavirus nella provincia di Caltanissetta, pazienti tutti posti in isolamento domiciliare. 118 sono i casi nella città di Caltanissetta, 108 a Gela, 28 a San Cataldo, 18 a Mussomeli, 13 a Niscemi, 11 a Santa Caterina e Villa Armosa, 6 a Vallelunga Pratameno, 5 a Butera, a Mazzarino e a Serra di Falco, 3 a Milena e Montedoro, 2 a Bonpensiere e a Sommatino, 1 ad Acquaviva Platani, a Campofranco, a Riesi e a Sutera. I ricoverati in degenza ordinaria sono in totale 10, di cui 3 a Gela, 2 a Niscemi a San Cataldo, 1 a Serra di Falco, a Santa Caterina Villa Armosa e a Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria invece 5 pazienti, di cui 3 a Caltanissetta, 1 a Gela e 1 proveniente da fuori provincia, mentre si segnale il decesso di un paziente di Caltanissetta. I guariti infine sono in totale 229, fra questi 87 pazienti nella sola città di Caltanissetta, 54 a Gela e 27 a San Cataldo. Si è concluso ieri il Festival Scambio Culturale tra Sicilia e Romania, dove per due giorni Corso Umberto si è tinto con i colori della bandiera rumena, dove si sono esibiti cantanti rumeni e italiani, con l'esposizione dei costumi tradizionali e assaggi di piatti. Un momento gioioso e di festa per tutta la comunità rumena presente a Caltanissetta, dove hanno portato con tanto onore i loro usi e costumi della terra natia. Evento patrocinato dal comune di Caltanissetta, la Proloco, l'ASIR, Associazione Sociale e Culturale Migranti Rumeni e il Consolato Rumeno. Presenti alla manifestazione anche i maestri nisseni Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia, dove hanno presentato i loro libri Il dono di un talento e le mie ricette del territorio nisseno. Io ho fatto questo libro perché giustamente rispecchia la nostra città e ho dedicato tutte queste ricette. Tra l'altro io sono 65 anni che faccio questa attività e mi sono preoccupato perché Caltanissetta non aveva nessun testo gastronomico e ho dovuto creare questo libro che rispecchia il nostro territorio parlando esclusivamente anche delle erbe spontanee che noi abbiamo qua. Ricordo i figli amari una volta e quindi questo libro rispecchia le tradizioni. Naturalmente con le tradizioni c'è anche l'innovazione e un cuoco deve anche sapere valutare le pietanze di una volta trasformandolo anche con le nuove tendenze che ci sono ora. Questo evento è organizzato con il sostegno del governo rumeno e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta che vorrei ringraziare al Comune di Caltanissetta per questa accoglienza alla comunità rumena qui a Caltanissetta e per questa collaborazione che abbiamo iniziato quattro anni fa ma per la pandemia non abbiamo organizzato la seconda edizione e adesso subito dopo la pandemia abbiamo organizzato la seconda edizione del Festival Scambio Culturale a Caltanissetta. Sono un cantante folcloristico perlomeno, mi trovo qui a Caltanissetta perché è stato organizzato un festival, un cambio di cultura in Romania e Sicilia, un posto meraviglioso, la gente è molto calorosa, speriamo che sarà così bello fino alla fine. La San Cataldese scivola all'ultimo posto della classifica del Gironei di Serie D dopo la sconfitta subita domenica a Castrovillari. La quinta battuta d'arresto in sei giornate, un ruolino di marcia disastroso che preoccupa non poco la tifoseria verde amaranto. Nell'ultima trasferta a Calabra basta un gol alla squadra locale per chiudere la partita, a firmare la rete decisiva del match e trovato al quarto d'ora della ripresa. I risultati della sesta giornata. Canicattì-Trapani 2-2, Castrovillari-San Cataldese 1-0, Acireale-Realla-Versa 0-0, Sant'Agata-Sanluca 4-1, Cittanova-Ragusa 1-4, La Mezzia-Santa Maria 0-1, Locri-Vibonese 1-5, Paternò-Licata 0-1, Mariglianese-Catania 1-2. La classifica. Catania 18 punti, La Mezzia 15, Vibonese 13, Ragusa 12, Real-Aversa 11, Sant'Agata e Locri 9, Acireale 8, Santa Maria, Trapani, Canicattì e Castrovillari 7, Licata 5, Paternò e Cittanova 4, Mariglianese, Sanluca e San Cataldese 3. In eccellenza un'altra sconfitta per la Nissa, la seconda di fila, la quarta dall'inizio del campionato. Stavolta al Palmintelli passa la Mazzarese con il minimo scarto, ospiti in gol al 28esimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Benivegna sorprende l'intero reparto arretrato biancoscudato e di testa manda la sfera alle spalle del portiere nisseno. Sull'1-0 la Nissa costruisce poco, mentre la Mazzarese si limita ad amministrare l'esiguo vantaggio. Al triplice fischio finale, ancora delusione profonda tra i tifosi della Nissa per l'ennesimo passo falso della squadra del cuore. Amareggiato il tecnico Davide Boncore, il suo commento a fine partita anche sulla pagina Facebook biancoscudata. Il più grande dispiacere che posso avere è non regalarci una gioia a questo pubblico di oggi. Il più grande dispiacere, il più grande rammarico che me ne sto andando a casa, col più grande rammarico che però ne ho parlato con la società, che sto facendo di tutto per rispecchiare il mio carattere. Il mio carattere è quello di vincere tutti i duelli. Ascessare non critico il passaggio sbagliato. Vincere i duelli, vincere l'1-1, l'1-1, vincere. Che questo a oggi ancora non lo vedo. Quindi mi assumo le mie responsabilità, perché quando non c'è questo, per un allenatore è un fallimento. Però prima di arrivare al fallimento mio, personale, di lavoro, l'unica cosa che dico al pubblico, alle persone che ci... Giustamente i tifosi si fanno chilometri, vengono a fare e dire, è che farò di tutto, farò di tutto, per cercare di riuscirci a farlo, come ho fatto nei 12 anni precedenti di passato. Sono convinto e forte che ci riuscirò, perché ora ho avuto un colloquio con la società e siamo nella stessa linea, siamo nella stessa linea, che mi sono assunto le mie responsabilità e solo col lavoro, oltre al lavoro, ci vuole la fame. I risultati della sesta giornata. Casteldaccia, Profavara 0 a 1, Don Carlo, Enna 1 a 1, Leonfortese, Gela 1 a 0, Mazzara, Castellammare 3 a 1, Nissa, Mazzarese 0 a 1, Oratorio, Marineo, Parmonval 1 a 0, Resuttana, Cuspalermo 2 a 0, Sciacca, Acragas 0 a 4, La classifica, Acragas 16 punti, Enna 14, Don Carlo, Mazzarese, Profavara, Sciacca 12, Mazzara 11, Casteldaccia 10, Cuspalermo e Castellammare 6, Oratorio, Marineo 5, Parmonval, Nissa, Leonfortese, Resuttana 4, Gela 2. Al triplice fischio finale di Nissa Mazzarese, che ha visto la vittoria della squadra ospite, è partita la contestazione dei tifosi verso tutta la società e la squadra, escludendo dalle colpe il nuovo tecnico Davide Boncore, che ha appena iniziato il suo lavoro. Faccia a faccia molto duro con alcuni giocatori e parole rivolte verso alcuni dirigenti, colpevoli, secondo i tifosi, di un mercato blando. Abbiamo sentito il presidente Sergio Iacona. La contestazione è pienamente comprensibile, perché i tifosi vogliono vincere, o comunque vogliono vedere una squadra che lotta fino all'ultimo secondo con la giusta motivazione. È chiaro che più amareggiati ancora dei tifosi siamo noi, perché noi abbiamo costruito una squadra che è stata messa nelle condizioni di lavorare con il massimo della serenità. Ai giocatori, allo staff tecnico non è mai mancato nulla, né nella fase del ritiro né nella fase successiva. Evidentemente oggi possiamo dire che sono stati compiuti degli errori nella fase della costruzione di questa squadra. Il nostro dovere è quello di non perdere la testa, di fare un'analisi a 360 gradi e adottare poi le conseguenti decisioni, sperando che i risultati vengano. Però mi sento di dire che questa è una squadra che era stata costruita per navigare dalla metà classifica in su e non per salvarsi. Alba Verde capolista in serie B2 femminile di volley. Dopo due giornate di campionato, le Nissene sono al primo posto della graduatoria del Girone I, in condominio con Fidelis Torretta e Gioiosa Ionica a sei punti, davanti a Crotone, Cuscatania e altre squadre allestite per il successo finale. Dopo la vittoria sulla Region Reggio Calabria, l'Alba Verde Caltanissetta ha superato a pieni voti anche la trasferta di Ragalna contro l'Alus con un perentorio 0-3. Successione dei set 12-25, 12-25 e 19-25. Tra le migliori in campo Alessia Angiletta, Nicole Ferrarini e Valeria Lamattina. I risultati della seconda giornata. Zafferana, Crotone 3-2, Ardens Comiso, Gioiosa Ionica 0-3, Ericina, Cuscatania 3-0, Planet, Fidelis Torretta 1-3, Saracena, Stefanese 3-0, Alus, Alba Verde Caltanissetta 0-3, Volley Region, Ballei 3-2. La classifica. Alba Verde Caltanissetta, Fidelis Torretta e Gioiosa Ionica 6 punti, Zafferana e Crotone 4-0, Saracena, Ericina, Cuscatania e Stefanese 3-0, Region, Reggio Calabria e Ballei 2-0, Planet, Alus e Ardens Comiso 0-0. Ben trovati a un aggiornamento con la previsione per la giornata di lunedì, quando un robusto campo anticiclonico di matrice nordafricana interesserà l'Italia con stabilità. Le perturbazioni atlantiche scorreranno oltre Alpe a latitudini quindi più settentrionali. Nel dettaglio possiamo osservare la previsione della nuvolosità e possiamo notare questi cieli sereni o poco nuvolosi dappertutto, le perturbazioni più ad ovest sulla Francia. Nel dettaglio la mappa dell'Italia, come dicevamo, tempo soleggiato poco nuvoloso, locali foschie di notte in Val Padana e sulle conche appenniniche. Un quadro termico che sarà molto umite addirittura in alcune zone del versante tirrenico estivo con valori fino a 26 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo.